Buongiorno e ben trovati ai giornali in edicola, la rassegna stampa con i principali titoli dei quotidiani nazionali di oggi sabato 4 dicembre 2021. In primo piano la divisione all'interno del Consiglio dei Ministri sulle tasse dice no alla solidarietà dei redditi più alti per il caro Bollette. Draghi però ha trovato la soluzione da un'altra parte trovando i fondi altrove. Ha provato anche il DDL sui femminicidi e il no definitivo è irritato del presidente Battarella al suo mandato bis. Ancora in primo piano l'omicidio del ricercatore italiano a New York e il discorso denuncia di Papa Francesco a Cipro sui migranti, sui profughi e l'atteggiamento ormai abituato dice il Papa dell'Occidente. Infine il rapporto Censis e il ritorno in Italia del piccolo Eitan dall'Israele. Andiamo subito a vedere le aperture di oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera Bollette. Il governo si divide. Manovra Italia Viva con il centrodestra salta la solidarietà dai redditi più alti. Draghi trova un'altra soluzione. Intanto l'agenzia di rating Fitch promuove l'affidabilità dell'Italia. Sale il rating non accadeva da vent'anni. Sulle tasse il governo si divide. Bocciato il contributo da chi dichiara più di 75 mila euro. Italia Viva si schiera con il centrodestra. Anche i sindacati divisi. La mediazione di Mario Draghi per recuperare 300 milioni. Giudizio positivo di Fitch sull'Italia. Dopo vent'anni torna a salire il rating del nostro paese. Fitch attribuisce al governo una buona strategia di consolidamento dei conti pubblici di medio termine. Quegli strani giochi di una parte del PD nella corsa al colle. Come vi dicevo il no definitivo e irritato di Mattarella al discorso ai partiti. Appunto il no al Mattarella bis. Chi l'avrebbe mai detto che tra i democratici sarebbe nato un club Forza Silvio? C'è un pezzo del PD infatti che tifa perché Berlusconi formalizzi la candidatura al colle ma non per votarlo. La fotonotizia al centropagina dedicata all'omicidio del ricercatore italiano Davide Giri di Alba Cuneo. Aveva studiato al Politecnico di Torino ed era ricercatore alla Columbia University di New York. Davide è ucciso nel parco a New York senza un perché Davide è morto e l'altro ferito è un altro italiano. È stato accoltellato ieri noti a New York mentre faceva jogging a Manhattan. È morto così Davide Giri, ingegnere di 30 anni di Alba in provincia di Cuneo. Era in America per un dottorato alla Columbia University. Ferito anche un altro italiano, un turista di 27 anni. La polizia ha arrestato un ragazzo di 25 anni affiliato a una gang di criminali. Ha arrestato già 11 volte per rapine e aggressioni. Dubbi sul movente. Andiamo avanti con le altre notizie del giorno. Novax over 60. Ecco i ricoverati in terapia intensiva e il rapporto Censis. Il paese irrazionale nega il covid. A novembre i Novax in terapia intensiva erano 507 di cui 318 tra i 60 e gli 80 anni. Meno della metà, 216 i ricoverati vaccinati. Ecco i dati del bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia. Dal rapporto Censis tutte le irrazionalità degli italiani nel 2021. In 3 milioni credono che il virus non esista. E vediamo qualche passaggio dell'editoriale di oggi del Corriere della Sera di Daniele Manc. Un assedio dannoso stride il giudizio positivo giunto ieri notte dall'agenzia di rating fish con quanto accaduto sempre ieri nel Consiglio dei Ministri. Una volta di più si è compreso quanto il nostro paese e l'azione di governo siano più apprezzati fuori dai confini nazionali di quanto lo siano al proprio interno. Abbiamo avuto una prova evidente con il coagularsi di una maggioranza nella maggioranza. Di come si sia consolidata l'idea di una politica che invece di comporre interessi spesso tende a farne prevalere alcuni su altri. In queste settimane di discussione della legge di bilancio 2022 è difficile rintracciare la parola donne e la parola giovani. Tutto ciò accade perché né la prima categoria nella seconda hanno rappresentanza di alcun tipo. Tra emendamenti e proposte dei partiti si è molto discusso come accade solitamente in questo periodo dell'anno di come ripartire una torta più o meno soddisfacente delle spese dello Stato. Ma la posta importante della manovra è stata puntata tutta ancora su quelle categorie che possono contare su partiti e parti sociali pronti a interpretarne gli interessi. Il loro potere di veto è forte e può portare anche alla paralisi di qualsiasi azione riformatrice e con loro si devono fare i conti. Anche Repubblica apre con la divisione del governo sul caro bollette scontro in Consiglio dei Ministri per frenare il caro energia. Il Premier propone stop al taglio il PEF per i redditi alti. Centro-destra e Renziani è una patrimoniale. Draghi Media, il risparmio giunge da altri fondi, Fisch alza il rating dell'Italia. E poi l'irritazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i sospetti sul bis basta non ci sto. Cabina di regia e Consiglio dei Ministri si spaccano sulla proposta del Premier Draghi di congelare per un anno lo sgravio IRPEF sui redditi sopra i 75 mila euro in modo da spostare risorse contro il caro bollette. Alla fine il Presidente del Consiglio cerca la mediazione e ottiene dal Ministro Franco risorse per 300 milioni superiori a quelle che sarebbero derivate dal contributo di solidarietà ma senza toccare il taglio delle tasse per i più abbienti. E su questa notizia di apertura poi i commenti, segnali di scollamento. Francesco Beia alla fine doveva succedere per la prima volta da quando Sergio Mattarella l'ha chiamato a presiedere il governo ormai dieci mesi fa mettendolo alla guida della maggioranza più larga della storia repubblicana Mario Draghi ha assistito sotto i suoi occhi alla deflagrazione della maggioranza fra destra e sinistra. La causa del dissidio è presto detta. E poi il retrosceno, un approfondimento dopo il no secco di Sergio Mattarella al mandato bis e una specie di rebus costituzionale ruota attorno ad un gigantesco dilemma. Che succede se il Parlamento sceglie Draghi come presidente della Repubblica creando l'inedita condizione di un Premier che deve dimettersi nelle mani del capo dello Stato a cui deve succedere e che ha tra le sue prerogative quella di gestire la partita del suo successore a Palazzo Chigi. Un dubbio interessante che apre appunto un nuovo approfondimento appunto su questa possibile ipotesi. E poi il rapporto Censis, italiani popolo di scettici che vede cospirazioni ovunque. E infine Covid, mascherine all'aperto nelle città, anche l'Alto Adice in zona gialla 4. Invece sono al momento le regioni che sono ad alto rischio. Andiamo avanti con la stampa, il quotidiano di Torino che apre dietro fronte sul caro Bollette. Fico, ma i poveri vanno aiutati. Parla il presidente della Camera sulla manovra, serve più rispetto per il Parlamento. Contributo di solidarietà per alleggerire gli aumenti, destra e Italia viva fermano Draghi. Il governo fa retromarcia sul caro Bollette. Roberto Fico sollecita più aiuti ai poveri. Sull'omicidio di Regeni, il presidente della Camera afferma che la tortura e l'assassinio di un ragazzo italiano al Cairo sono una questione di Stato. E sulla cittadinanza lancia l'idea di una nuova legge con il PD. Fotonotizia al centropagina dell'omicidio di Davide Giri. Soli di Davide infranti a New York, il ragazzo di Alba accoltellato a Darlem dopo il calcetto. Davide Giri si stava rientrando da un allenamento con la sua squadra di calcio quando la sua vita è stata spezzata dalla violenza omicidia di un pluri pregiudicato in libertà vigilata. Fatali le coltellate allo stomaco. E poi al centro appunto dell'apertura della stampa ancora come vi dicevo il secco no di Sergio Mattarella al mandato bis. L'ira di Mattarella contro i partiti basta insistere sulla rielezione. Le istituzioni del gioco al massacro invece l'approfondimento di Marcello sorgi. Stupore è un eufemismo il presidente profondamente irritato cosa impensabile per un uomo come Mattarella. La ragione è l'interpretazione del disegno di legge dei parlamentari PD a lui vicini Zanda, Bressa e Parrini volto a inserire nella Costituzione il divieto di rielezione del capo dello Stato e a cancellare il semestre bianco. Testo presentato in Senato con l'obiettivo di convincere Mattarella ad accettare un secondo mandato a termine fino appunto all'approvazione della riforma. Proprio perché si poteva credere Zanda lo aveva lasciato intuire in un'intervista che l'iniziativa dei tre fosse in qualche modo concordata con il colle. Mattarella ci ha tenuto a ripetere per l'ultima volta di non essere interessato al bis e che il 3 febbraio alla scadenza del settenato lascerà il quirinale. Di spalla invece la approvazione del DDL sui femminicidi. La stretta sui femminicidi che è giunta ieri con la firma appunto del disegno di legge che dovrebbe tra i suoi obiettivi fermare appunto la strage delle donne in Italia. Dall'inizio dell'anno sono 109 questi i numeri. Gelmini, le donne non devono più avere timori. Lo Stato è con loro, lo ha ribadito anche il ministro Cartabia proprio in conferenza stampa presentando il DDL. La guerra di Elie nei volti del desiderio invece l'aspetto culturale trattato sempre in prima pagina dalla stampa e infine il caso Epstein, Gislein e le ragazze violate di Gianni Riotta. Proseguiamo con il quotidiano economico, il sole 24 ore. Il quotidiano di Confindustria apre anch'esso con la divisione all'interno del governo sul fondo di solidarietà. IRPEF, via libera alle quattro aliquote, scontro politico sugli sgravi. In bolletta. Legge di bilancio, tasse ridotte ai contribuenti tra 35 e 50 mila euro, salvaguardia sotto i 28 mila. Forza Italia, Lega e Renziani contro il contributo di solidarietà sui redditi sopra i 75 mila euro. Via libera del Consiglio dei Ministri all'IRPEF con quattro aliquote e una curva delle detrazioni che punta a ridurre le tasse ai contribuenti tra i 35 e i 50 mila euro di redditi. Spunta una clausola di salvaguardia per i redditi da 15 mila a 28 mila euro. Un via libera arrivato dopo un confronto acceso sull'ipotesi di un contributo di solidarietà sui redditi sopra i 75 mila euro per destinare 250 milioni al fondo contro i rincari bollette. Niente contributo ma il Ministro Franco si è impegnato a recuperare i fondi altrove. Contributi, platea ridotta per Italia, 0,7% di sconto per i redditi fino a 35 mila euro e appunto il Sole 24 ore quantifica in 120 euro la media dello sconto. Il taglio dei contributi approvato dal Consiglio dei Ministri varrebbe in media 120 euro l'anno con una forbice che va da 64 euro per i redditi fino a 8 mila euro a 280 euro per la fascia massima. Sempre il primo piano, lavoro. Stati Uniti sotto le attese, borse giù, vendite sui big tech. Mercati a novembre negli States creati 210 mila posti, meno della metà delle stime. L'economia americana a novembre ha creato 210 mila posti di lavoro, un dato molto al di sotto delle attese delle analisi che scommettevano su 550 mila assunzioni. Il tasso di disoccupazione è però calato dal 4,6% al 4,2%. I dati sull'occupazione degli Stati Uniti hanno pesato sulle borse europee che hanno invertito la rotta a fine giornata e chiuso le contrattazioni con il segno negativo in una settimana caratterizzata dall'alta volatilità. E' sempre il Sole 24 ore dedica di spalla a una notizia sui migranti profughi con le parole del Premier Draghi al Forum Med. Migranti dal Mediterraneo a coinvolgere di più l'Europa. Questo l'appello del Presidente del Consiglio. Sul fronte dei migranti dal Mediterraneo occorre coinvolgere di più l'Europa perché l'area non è un confine ma il centro dell'Unione. Lo dice il Premier Draghi a Rom Med. La collaborazione tra i paesi del Mediterraneo non può limitarsi ai rapporti bilaterali né esaurirsi nella gestione della crisi ha detto Draghi parlando anche del caso Libia. Infine in taglio basso il quotidiano economico dedica l'apertura al super green pass in vigore dal lunedì 6 dicembre. Da lunedì tamponi per salire sui bus misure anti covid in Veneto caso di Omicron, Biontech potrà servire un nuovo vaccino. Da lunedì le nuove disposizioni del super green pass a 6,3 milioni di persone servirà il tampone anche per salire sui mezzi pubblici. Intanto la variante Omicron ha fatto la sua comparsa in Veneto con il primo caso riscontrato. In merito alla nuova mutazione del covid il fondatore di Biontech si dice convinto della necessità di un vaccino specifico. E infine il rapporto Censis 2021. Il Censis fotografa l'Italia irrazionale fatta emergere dalla pandemia. Il quotidiano dei Vescovi, il quotidiano della conferenza episcopale italiana a venire apre con le parole di Papa Francesco, il suo discorso a Cipro, l'incontro ecumenico di Cipro l'invito ad aprire gli occhi. Migrare non è turismo, ci stiamo abituando, ha detto il Papa. Lager d'Occidente, questo è il titolo scelto appunto da venire per l'apertura. Dal Papa la dura denuncia del trattamento disumano a cui sono sottoposti i profughi. Persone vendute, torturate, schiavizzate. I fili spinati sono un simbolo di odio in Europa. Non possiamo tacere fili spinati, posti di confinamento e schiavitù. Questa è la storia di una civiltà sviluppata che noi chiamiamo Occidente. La voce di Papa Francesco è tuonata congedandosi dall'isola Crucevia del Mediterraneo contro quell'odio che si chiama filo spinato che separa, spezza, uccide davanti a questo mare che è un cimitero. Per l'ultima tappa, nell'isola tra Oriente e Occidente, aveva prenotato un momento di preghiera ecumenica con i migranti. E nella chiesa di Santa Croce ha alzato gli occhi dal testo, guardando voi, guardo le sofferenze del cammino, tanti che sono stati rapiti, venduti, sfruttati. Ma è la storia di una schiavitù, una schiavitù universale. Fotonotizia al centropagina dedicata anche dal quotidiano avvenire a Davide Giri, il ricercatore italiano, il volontario ucciso, un orrore a New York. Davide Giri aveva un futuro brillante davanti a sé a 30 anni, originario di Alba, impegnato nel volontariato, era uno studente di dottorato alla scuola di ingegneria della Columbia University di New York. Solo la nazionalità italiana lo accomunava al 27enne turista Robert Malastina, ma il destino ha voluto che entrambi si trovassero nella stessa zona e incrociassero il componente di una ganga violenta che li ha aggrediti a colpi di coltello. Le altre notizie in pagina, il fisco scontro nel governo, non al contributo bollette alt di Lega, Forza Italia, Italia Viva, Mattarella ancora una volta, ora basta, illazioni su un secondo mandato. In Consiglio dei Ministri è saltata l'idea del Premier Draghi di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi sopra i 75 mila euro per far fronte al caro bollette. Lega Forza Italia e Italia Viva si sono opposti, incomprensibile lo stop a Draghi dai Renziani, accusa il PD. Lo stanziamento contro il caro bollette in manovra salirà comunque di circa 800 milioni. Il MEF ha trovato altre risorse. Il taglio, una tantum dei contributi nel 2022, sarà concentrato sotto i 35 mila euro di reddito con una spesa di un miliardo e mezzo. Intanto, CGL e CISL non escludono lo sciopero generale. Intervista a Sbarra, all'interno appunto del giornale, che invece frena. Della CISL non ne vedo le ragioni, l'impianto è stato migliorato. Infine, Mattarella manifesta stupore per i nuovi tentativi del PD sul suo bis e conferma il no. E ancora in prima pagina, le donne a rischio in arrivo più tutela e più prevenzione. Il Consiglio dei Ministri vara un decreto presentato dalle otto ministre con misure che vanno dal braccialetto elettronico al reddito di libertà per chi denuncia le violenze fino alle provvisionali per gli orfani di femminicidio. Fenomeno aberrante. Ora ci sono più alibi, dicono. Non ci sono più alibi, dicono, ma serve un cambiamento culturale. Andiamo avanti con il quotidiano della Capitale, il messaggero che apre ancora una volta con le tasse. Taglio per i redditi bassi, IRPEF ridotta e decontribuzione per la fascia fino a 35.000 euro. Risparmi di 1.000 euro l'anno. Per le pensioni cresce la no tax area. Le critiche di Bonomi così non si favorisce la crescita. Dietro fronte di Palazzo Chigi, costi del gas, CDM spaccato sulla mini patrimoniale. Come dicevamo, il Consiglio dei Ministri spaccato sui costi dell'energia. È arrivato l'alto là la proposta del Premier Draghi di un contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75.000 euro. E poi, caro Bollette, l'esecutivo stanzia altri 800 milioni in aggiunta ai primi 2 miliardi. Altri 800 milioni da aggiungere ai 2 miliardi già messi in preventivo e in manovra per frenare il caro Bollette. Ma per mitigare gli effetti su imprese e famiglie servono nuove risorse. Le risorse dalla riforma di IRPEF e IRAP. Fotonotizia dedicata a Davide Giri, ricercatore di Alba ucciso da un pregiudicato. Davide accoltellato nel parco a New York. E poi il Covid ancora in primo piano. Incorsì anche se sospesi il blitz sui medici Novax, denunciati in 281, oscurato un sito di terapie non validate. Maxi blitz del NAS in ASL, ospedali, cliniche e studi professionali in tutto il paese. I militari hanno scoperto medici e infermieri Novax che continuavano a lavorare. Altri, già sospesi, che erano in servizio. In totale sono 218, tutti denunciati dai carabinieri. Tra loro anche medici di famiglia, pediatri e farmacissi. Intanto è stato chiuso Ippocrate.org, la rete di medici legata a un gruppo Facebook e a un sito diventato un riferimento per alcune terapie domiciliari alternative ai protocolli ufficiali Covid non riconosciute. È legato a questo argomento, come dicevamo, il rapporto Censys. Colpa dello stress da pandemia, italiani più sfiduciati e irrazionali per 3 milioni, il Covid non esiste. Complottisti, sfiduciati, con addirittura 3 milioni di connazionali che credono che la terra sia piatta. Lo stress da pandemia ci ha fatto perdere la testa. A sfogliare le 483 pagine del 55esimo rapporto Censys, la prima grande questione è la società irrazionale. Per il 10,9% degli italiani il vaccino è inutile e inefficace, mentre per 3 milioni di persone il Covid addirittura non esiste. Nel taglio basso del messaggero, il rientro del piccolo Eitan in Italia. Dopo 84 giorni Eitan in Italia, Eitan ricordiamo è l'unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, e ora è vita normale e rientra a scuola, dopo che era stato portato in Israele da suo nonno. Dopo 84 giorni in Israele Eitan è di nuovo a casa, ora scuola e vita normale. Guardiamo invece le aperture, l'apertura del mattino, il quotidiano di Napoli. Si allarga il taglio delle tasse, questo è il titolo scelto per l'apertura. Dopo il ceto medio il Governo aiuta i redditi bassi, in busta paga fino a 1.000 euro all'anno in più. Caro bollette, l'ite nel Governo sul contributo da 75 mila euro in su, poi spuntano altri 800 milioni. Un rinforzo da 800 milioni di euro, oltre ai 2 miliardi già messi in preventivo, per un totale di 2 miliardi e 800 milioni. Saltata l'ipotesi di un contributo temporaneo di solidarietà ai redditi sopra i 75 mila euro. Non senza polemiche nel Governo, lo stanziamento contro il caro bollette si ferma al momento sotto la soglia dei 3 miliardi. In busta paga fino a 1.000 euro in più all'anno per i ceti bassi. Altro argomento, il Covid, quarta ondata, 6 regioni a rischio giallo, quei 218 medici senza un vaccino che lavorano ancora in corsia. In totale sono 281, tutti denunciati a piedi libero. I medici Novax, scoperti dai carabinieri del Nasi, controlli hanno riguardato 1.609 strutture pubbliche e private. Disposta la chiusura del sito di medici che curavano alternativamente online. Intanto i ricoveri sono in aumento in tutta Italia. 6 sono invece le regioni che viaggiano verso il giallo. Fotonotizia dedicata invece all'incidente di Capri, un masso caduto lungo la strada per Anacapri, il disesto idrogeologico senza freni, salva per 20 centimetri. La nonna invece morì sotto una frana. E poi in taglio basso l'aggressione a New York di un folle dopo la partita di calcio. Davide, l'ingegnere di Alba, ucciso nel parco a New York. E ancora il riferimento al nuovo DDL sui femminicidi. Violenza sulle donne, arriva la terza legge, speriamo che basti. È bello vedere i ministri di aree politiche e appartenenze diverse, Bonetti, Cartabia, Gelmini e Lamorgese, muoversi all'unisono su un progetto, scrive Titti Marrone, nel suo pezzo e l'approfondimento all'interno del giornale. Andiamo a vedere invece l'apertura del quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, il quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Manovra e Quirinale, siamo dentro la commedia. Il fumo e l'arrosto, partiti e sindacati in stato confusionale del reddito sanno vedere solo l'illusione. La telenovela quotidiana dei partiti continuerà fino a quando saranno costretti a rendersi conto che sono davanti a un bivio. O scelgono loro di mandare draghi al Quirinale o perdono per sempre draghi avendolo bruciato. Enesima furbata, questa volta del PD col disegno di legge costituzionale, che abolisce il semestre bianco e inserisce il divieto di rielezione del capo dello Stato. Ed enesimo non ci stò di un galantuomo come Mattarella, che è nella prima linea dei presidenti della Repubblica che hanno lasciato un segno nella storia. Né per il centrodestra, né per il centrosinistra, né per il sindacato, dice il direttore napoletano nel suo editoriale, i saldi del bilancio pubblico e la dimensione del debito sono parametri di cui tener conto. CGL e UIL chiedono meno IRPEF per chi già non la paga e nessuno glielo ricorda. Altro argomento, caro Bollette, maggioranza divisa, salta il contributo di solidarietà compromesso in Consiglio dei Ministri, trovati 300 milioni per mitigare le tariffe. E infine, non saremo la locomotiva d'Europa, ma siamo diventati esempio per tutti. Dal 2015 produciamo più di Germania e di Francia. Infine, il rapporto Censis, più poveri e sfiduciati, sedotti dal complottismo. Il rapporto Censis fotografa gli effetti del Covid e della pandemia sugli italiani. E questa era l'ultima notizia, l'ultimo giornale di oggi. Grazie per aver seguito i giornali in edicola. Vi lascio alla consenta programmazione della rete e vi auguro buona giornata. Grazie per aver guardato il video.